Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira burda, collio e quai. Sono Claudio Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Questa mattina presso l'angar del corpo a Tessera si è svolta la cerimonia di consegna del veivolo, un AV139, alla presenza tra gli altri in rappresentanza della città di Venezia e dell'assessore comunale Simone Venturini, nonché dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botacin, del prefetto Vittorio Zappalorto, del direttore interregionale per il Veneto e il Trentino Alto Adige dei Vigi del Fuoco Loris Munaro, del comandante dei Vigi del Fuoco di Venezia Dino Poggiagli e del direttore del SUEM dell'USL 3 Serenissima Paolo Rosi. L'AV139 è un elicottero dotato delle più moderne tecnologie, tra cui il visore notturno. Ha una capienza di 17 posti, 3 ore e mezza di autonomia di volo, due motori da 1530 cavalli l'uno, che gli consentono tra l'altro di compiere atterraggi e decolli in sicurezza anche in caso di avaria. L'eli Nucleo di Venezia, che è composto da 12 piloti, 12 specialisti, 6 aerosocorritori fissi e 2 sommozzatori, ed ha competenza non solo su tutto il territorio del Veneto, ma anche sul Friuli Venezia Giulia, e può contare su 5 velivoli e su una operatività quotidiana H24. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante, e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.